Ben tornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. L'Italia si trova al margine delle perturbazioni atlantiche, con alternanza di fronti umidi e piovosi e periodi più stabili. Questa fase settimanale vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la penisola, con la campana anticiclonica che si estenderà dall'Africa fino al Mediterraneo. Solo le estreme regioni settentrionali vedranno un aumento della nuvolosità con qualche fenomeno. Il centro e sud Italia rimarranno invece sotto la protezione anticiclonica per almeno due o tre giorni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 2 marzo. Al mattino cielo sereno su entrambe le regioni, possibili banchi di nebbia nelle zone interne della Puglia e della Basilicata. Durante la giornata aumento della nuvolosità alta sulla Basilicata ma senza fenomeni. Cieli solleggiati su tutta la Puglia, inserate invece tempo stabile ovunque torna il rischio delle nebbie. Temperature stabili con tendenza ad aumento nelle valori massimi, venti prevalentemente occidentali, mosso il Tirrino, poco mosso lo Ionio e l'Adriatico. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo per questo splendido scatto al tramonto sul mare di Torre Lapillo e Porto Cesario nelle Cese. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.